La tutela del territorio passa anche dal rapporto tra caccia e agricoltura. Se ne è discusso nel corso del meeting svoltosi all'Antico Borghe e organizzato dall'ambito territoriale di caccia Crotone 2. La caccia vive soltanto nel territorio, è un territorio pulito, un territorio pronto a ricevere l'uomo. L'uomo che deve andare in campagna, sicuro di non essere inquinato, sicuro di non aver contrarre nessuna malattia, nessun turbamento. Ecco perché l'interesse della caccia è quello di avere un territorio pulito. Siamo sempre a contatto con i cacciatori, a contatto con l'ambiente, a contatto con gli enti regionali che ci devono tutelare in questo fatto. Perché noi ogni volta che facciamo delle manifestazioni, delle attività cinofile, vogliamo che la regione ci appoggi e il comune, la provincia, siano sempre disponibili nelle nostre richieste perché noi non vogliamo fare nient'altro che tutelare l'ambiente. La promozione del territorio passa attraverso un sistema struttura, un sistema corona, in cui anche la caccia potrebbe essere un elemento di sopporto. L'enogastronomia però, la cultura sedimentata della gente che ha vissuto su questo territorio, la grande biodiversità che questo territorio rappresenta sono gli elementi su cui dobbiamo puntare. Poi è chiaro che l'offerta può essere anche un'offerta di caccia ambientale, di escursioni, di beadwatching. Come conoscono l'ambiente i cacciatori nessuno lo conosce. Quindi potremmo anche immaginare che accanto al cosiddetto turismo venetorio intelligente, non un turismo venetorio da rapina, non necessariamente è la predazione, l'uccisione della preda, quanto praticamente la capacità di rappresentare anche la conoscenza dell'ambiente che è l'elemento importante. Tra i maggiori benefici che l'attività venatoria porta a quella agricola, c'è la riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica ed in particolare dei cinghiali. Grazie alla selezione quest'anno abbiamo ottenuto ottimi risultati perché siamo riusciti a contenere attraverso il prelievo, quindi l'abbattimento di questi animali, abbiamo abbattuto 600 cinghiali. E non è poco perché a questo contributo c'è anche un contributo apportato dalle squadre. Quindi quando apre la caccia, il periodo che va da ottobre a fine dicembre, anche le squadre danno il loro contributo abbattendo numerosi cinghiali. Però non vi nego che ancora l'emergenza cinghiali esiste e c'è ed è un dato di fatto. Purtroppo ci conviviamo e cerchiamo di superarlo nel migliore dei modi. Il meeting, una vera e propria occasione di incontro, rientra in un più ampio progetto teso a mettere in risalto il territorio crotonese.